Eccoci e bentornati nel mio canale, riprendiamo con la campagna di Call of Duty Black Ops 2. Allora, ci eravamo interrotti sulla scelta tra queste due missioni che erano il velo di Achille, Yemen 2025 e eliminazione Pakistan 2025. Facciamo sempre prima questa qui, che tipo di quelle missioni tattico-strategiche e vediamo che cosa dobbiamo fare. La cina è nella merda e ci ha chiesto aiuto. Cinque minuti fa ho parlato con il presidente. Ha approvato. Possiamo ammazzarlo. L'uccisione di Zhao impedirà a Menendez di scatenare una guerra totale tra America e SDC. Zhao sorvolerà a Peshawar intorno alle 16 di domani. Intervento via terra, vecchio stile. Individuate il beetle di Zhao e abbattetelo. Ci sarà un plotone ad assistervi. Ok, andiamo a far secco. Ciao. Allora, vediamo un po' che obiettivi ci dà. Sicuramente abbattere, o meglio uccidere, Zhao. Allora. Elimina il generale Zhao. Località Peshawar, Pakistan. Obiettivo primario. Poi, utilizza visuali tattiche e comandi. Localizza il beetle a battuto del generale Zhao e viola i suoi sistemi difensivi. Protegge il modulo di violazione mentre disattiva il sistema di violazione del beetle. Elimina il generale Zhao. Ok. Vediamo un po' che ci danno a disposizione. Contatto con beetle nemici. Resto, abbiamo un solo tentativo. Andiamo un po' se è qualche mappa. Aia. Ah, fatevi tutto voi? Uh. Tre mezzi beetle distrutti. Sì. Cavolo, questa è una mappa multiplayer. Non mi sta venendo il nome. Eccone uno. Ok. Oh, oh, oh. Ma guarda questo, dove sta? Mamma mia, sempre essi cavolo di AGR. Su. Su, rompi sta AGR. Ok. No, no. Guardate. Maledette granate. Sta per morire. Su, su, su. Ok. Presa un tempo, un tempo. Stanno qua. Su, su. Piano. Piano. Ui, ui, sta per morire. No, ma questo qua non muore. Ma che cavolo. Ma era una torretta. Ok, ok. Andiamo avanti. Bisogna andare sul punto A. Chi è che mi spara alle spalle? Chi è che mi spara alle spalle? Su, su, su. Vai via. Mannaggia, c'ho qualcuno dietro. Perfetto. Fine munizioni. Mannaggia. Su. Mamma mia, te faccio salta in aria. La maledetta AGR. Vediamo se qualcuno di questi morti... Aspetta, c'è qualcosa. Prendi Vector. Vai giù, vai giù. Dai che sta per morire, dai che sta per morire. Recupera energie. Su. Ancora. Vai col Vector, vai col Vector. Ok. E aspetta un attimo. Annaggia, sti AGR. Ma è pieno, ma. Su. Vai giù. Ok. Oh. Chi è che mi ha tirato una granata? Oh, io non ce la sapete più niente. No, 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 no. C'è qualcuno dietro. Su. Ok. Andiamo. Ancora. Ma quante cacchie di esplosioni ci stanno? Oh. Mi sto per morire? Eh. Ok. Ancora. Ma quanti ce ne stanno? Vai via, via. Oh, oh, via. Vai giù, vai giù, vai giù. Su, 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 su. Ok. Eh, mamma mia. Quanti siete. Via, via. Vai giù, vai giù. Vai giù. Aspetta. Aspetta. Non mi fa secco. Ma chi è a me sta... Ma quanti ce ne stanno queste agr? Eh, mamma mia. Ma siete veramente tantissimi, oh. Allora, andiamo. Sono proprio un mare. Sono proprio tanti. Ci voleva arriva su, eh. Allora, fammo il girato in qua. Che cavolo. Oh, oh, oh. Fammo se cassa torretta. Su. Ok. Ok. Allora, qua dentro sta qualcuno. Ah, sta sto cavolo da agr. Ok. Questo agr è saltato. Oh, nooo. Allora. Mamma mia che spettacolo. L'MK48 col... col mirino questo qua. Mamma mia, questo è devastante, eh. Andiamo qua. Aspettami. Vai. Ok. Andiamo un po'. Qua dentro c'è sta? Vedo qualcuno. Ah, ancora questi qua. Che cavolo. Su, su, su. Ricarica. Aspetta che muove. Faccio saltare in aria. Mamma mia, sta per morire. Ok. No. Ancora sta qua. Su. Ok. Perfetto. Fammo vedere queste torrette. Ok, una. Due. Ok. Perfetto. Perfetto. Aspettami. Oh, 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 oh. Che ho messo a sparare? Che ho messo a sparare? Piazza al network. Ok. Su. Difendiamolo. Vai. Ok. No, c'ho un minuto, mannaggia. Recupera queste munizioni. Recupera queste munizioni. Niente. Ho troppi. Si, ho capito. Ma mi dovete dare una mano, eh. Sono troppi, so. Scusa. Oh, oh, oh. Su, su. Cacchio. Sono veramente tanti. Sono veramente tanti. Non è facile? Cacchio. Ci abbiamo tre minuti. Andiamo. Aspetta, aspetta, aspetta che sta ricaricando. Aspetta che sta ricaricando. Ok. Più che altro, almeno tutti i mezzi fissi li abbiamo rotti. Tra. Torette. Rimane, penso, qualche GR, eh. Cannaggia. Ok. Questo è rotto. Poi. Su. Ok. Ok. Oh, oh. Ma chi ha messo a sparare? Aspetta. Uno, due, tre. Questa è tosta? Eh. Questa è tosta. Su. Vai, piazza al network. Ok. Vai. Piazzato, vai. No, no, no. Recupera s'energia. Perfetto. Vai, vai, vai. Morto. Perfetto. Questo che sta qua. No, no, no. Ok. Con un altro. Vai. Perfetto. È caduta una munizione. Su, su, su. Dai, dai che ci siamo quasi. Dai che ci siamo quasi. Vai, 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 vai. Oh, grande. Perfetto. Ok. Ucciso Zao. Confermata positiva. VIP assassinato. E andiamo. E anche questa è fatta. Missione riuscita. Hai guadagnato un trofeo. L'arte della guerra. Ok. Stava andando inizialmente molto male. Mancavano due minuti. Siamo riusciti giusto un tempo a riprenderci. Per vincerla. Questa non era molto semplice. Più che altro ce ne stanno veramente tanti. Arata distruggere subito torrette AGR. Perché almeno poi. I soldati sono più facili da buttare giù. Ok. Grazie. Perfetto. Tianhezhao assassinato. Procedere. Ok. Dobbiamo fare il velo di Achille. E niente. La facciamo al prossimo episodio. Ciao. 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 Grazie.